Ritornare alla cura dopo l'emergenza sanitaria del covid. In che modo? Informando i cittadini rispetto al tema della prevenzione e della salute, ma anche promuovendo quei comportamenti che migliorano la qualità della vita. È la strategia che la Regione Abruzzo ha messo a punto per definire le priorità e coordinare le iniziative comunicative per tutta la durata del Piano di Prevenzione 2021-2025, progettando anche le aree di intervento. Su questi temi si sono incontrati a pescare amministratori regionali, dirigenti e addetti ai lavori. Del resto fare conoscere quello che si intende fare e si fa per la salute aumenta la fiducia dei cittadini. Parola di Assessore regionale Nicoletta Verì. È vero, infatti questo piano di prevenzione mette in atto proprio dei programmi ben precise dove coinvolge in modo particolare la scuola, dove ogni bambino, ogni ragazzo diventa protagonista, attore consapevole di quello che è un percorso di formazione e soprattutto quali sono i corretti stili di vita. È importante prevenire quelle malattie che poi possono diventare anche invalidanti. Abbiamo oggi un risultato importante per quanto riguarda gli screening oncologici che purtroppo durante la pandemia, come tutti voi sapete, hanno avuto una diminuzione di accessi, di adesioni. Oggi abbiamo invece recuperato in maniera notevole, speriamo di farlo ancora di più, il più del 63% ha risposto ai nostri inviti a fare dello screening da un punto di vista oncologico. Un altro numero indicativo di questo ritorno alla cura lo fornisce il direttore del Dipartimento Sanità Abruzzo, Claudio Damario. Sì, noi abbiamo già recuperato addirittura il 108% delle prestazioni che si erano perse in quel periodo, comprese quello che erano le attività 2019. Siamo tornati a un regime, ma questo non significa che i livelli raggiunti sono soddisfacenti perché noi dobbiamo raggiungere i target, quelli individuati dal Ministero della Salute, quindi nei target vaccinali, nei target di adesione agli screening oncologici che sono l'unico modo per ridurre le malattie oncologiche. La diagnosi precoce salva la vita, quindi questa è la forma più corretta di intervento per le malattie oncologiche.